E' stato pubblicato il bando ripresa Sicilia, tanto atteso dagli imprenditori dell'isola. E' disponibile online l'avviso pubblico per l'aiuto alle imprese per un totale di 36 milioni, concesso con un'procedura valutativa e sino esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Sarà possibile accedere alla piattaforma per scaricare la relativa modulistica dal prossimo 28 febbraio. Le istanze, complete della prevista documentazione, dovranno essere presentate dalle ore 12 del 5 aprile alle ore 12 del 27 aprile 2023. La dotazione finanziaria per questa misura di agevolazione è pari a 36 milioni di euro, comprensiva degli oneri gestione di cui 20 milioni a valere su risorse del POC 2014-2020 e 16 milioni a valere su risorse dell'FSC 2021-2027. Abbiamo lavorato alla stesura del bando ripresa Sicilia in linea con le esigenze e la richiesta degli imprenditori per avviare in tempi veloci la procedura di domanda per i finanziamenti, dice l'assessore regionale di attività produttive Edita Maio. Il governo regionale sta mettendo in moto una macchina complessa di aiuti e contributi destinati alla crescita e allo sviluppo delle imprese siciliane, per recuperare il terreno perduto e superare la crisi determinata dai momenti di stasi provocati dalla pandemia e dai recenti aumenti dei costi energetici e delle materie prime. Destinatari della misura sono le piccole e medie imprese con sede legale operativa in Sicilia, sia in forma singola che associata ad altre imprese, complessivamente tre aziende, che intendono realizzare un programma di spesa nel territorio della regione siciliana. Sono ammissibili programmi di spesa non inferiori a 400 mila euro e non superiori a 5 milioni. Fra le idee imprenditoriali ammesse, quelle integrate con progetti di ricerca e sviluppo a sostegno della valorizzazione economica, dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della stessa ricerca, ma anche interventi per nuove tecnologie o soluzioni innovativi nei processi, nei prodotti, servizi e nell'organizzazione. La misura non può superare il limite massimo del 75% della spesa ammissibile e deve rientrare nei limiti dell'intensità massima di aiuto, di cui una parte erogata a mutuo agevolato o tasso zero della durata massima di 12 anni e la restante parte a fondo perduto. Resta in carico al beneficiario il convizionamento per un importo non inferiore al 25% di spesa ammissibile, da immettere tramite apporto di mezzi propri o finanziamento bancario non agevolato. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici nazionali, regionali o comunitari per le stesse spese ammissibili. Il testo completo dell'avviso è pubblicato sul portale della regione siciliana. Grazie.